Sarà presto intitolata Gino Cortese, partigiano e deputato regionale del PCI, l'attuale Via Traversa Elena a Caltanissetta, così come deliberato dalla Giunta Comunale il 16 dicembre scorso. Una proposta che l'AMPI fece lo scorso anno nell'ambito del progetto nazionale L'Italia è antifascista, promosso dal Forum delle Associazioni Antifasciste della Resistenza, accolta dall'amministrazione comunale e dichiara il presidente del Comitato Provinciale Ampi, Peppe Camarata, un segnale molto forte per la città che ha dato in Natalia numerosi protagonisti della guerra di liberazione del nazifascismo, più di 80 con lo scopo di fare memoria. Questa insieme ad altre iniziative intraprese dai festeggiamenti dello scorso 25 aprile consolida sempre di più l'intesa tra l'AMPI e le istituzioni della Repubblica e in questo caso con il comune di Caltanissetta. Con il nome di Battaglia Ilio Gino Cortese lottò contro la dittatura fascista e l'occupazione nazista. Il tratto di strada che sarà intitolato a lui appartiene alla sua infanzia, uno dei suoi luoghi dove c'era il ristorante Elena, gestito dalla sua famiglia. Già da studente liceale con il nome di Luzio faceva parte della cellula del Partito Comunista Clandestino, guidata da Calogero Boccadutri e dove si incontrava con personalità come Pompeo Colaianni, Emanuele Macaluso, Gaetano Costa, Rita Bartoli, Gino Giannone, Michele Ferrara e Leonardo Sciascia. Tutte personalità in prima linea per la giustizia, la solidarietà verso gli ultimi, dai minatori ai contadini, quelli che oggi verrebbero descritti come gli invisibili. Nel 1943 Parma e la resistenza antifascista e due anni dopo, alla testa della brigata, libererà la città. Tornato in Sicilia, organizzò il Partito Comunista Italiano nel Nisseno, eletto deputato a Lars per cinque legislature, dal 1947 al 1967, divenne capo del gruppo parlamentare del PCI.